Ho visto fin dalle origini come questo progetto è nato, l'ho seguito nel corso degli anni, peraltro sono stati molto pochi, perché avete visto la prima pietra è stata messa veramente pochi mesi fa, quindi è un esempio virtuoso di come un piccolo comune si è saputo organizzare per concorrere ai vari bandi e avere la possibilità di realizzare una scuola come questa. È anche molto un bel esempio di come gli spazi in una scuola primaria si possono organizzare per fare didattica educativa, è veramente un modello che ci porta in Europa, direi.